Domani si aprirà la tredicesima giornata di ritorno, nonché terz'ultima della stagione nei campionati regionali. Sono soltanto due gli anticipi in programma, entrambi nel campionato di promozione, mentre tutte le gare di eccellenza previste per il weekend ed in più Biccari-Comprensorio-Vairano, in occasione del torneo delle regioni, sono posticipate alla prossima settimana. Il Baranello è in cerca di riscatto dopo il KO in casa del Trivento, dove i ragazzi di mister Emanuele Di Chiro hanno perso per 3-1. Una sconfitta che arriva dopo una serie molto positiva, che ha consentito alla formazione di guadagnare matematicamente la terza posizione in campionato, e dunque un posto nei play-off. Domani i mister Di Chiro e i suoi undici scenderanno in campo tra le Muramiche contro l'Aurora Aururi, squadra che sta attraversando un periodo no e che dopo l'ultima sconfitta contro l'Aurora Capriatese per 1-2, staziona ancora in terz'ultima posizione in piena zona play-out. Se i padroni di casa, focalizzati a rimediare all'ultima sconfitta, potranno contare sul fattore campo, sul risultato positivo dell'andata e anche sul loro ormai consolidato terzo posto, gli ospiti sono invece chiamati ad un impegno massimo, vista la difficoltà della sfida che li aspetta. Dirigerà ai 90 minuti Alessio Libertone della sezione di campo basso. Il Vitantonio di Ripalimosani sarà lo scenario del prossimo match, che vede contrapposta alla formazione di casa guidata da mister Bentivoglio, quella del Trivento. Entrambe le squadre sono reduci da una vittoria. I locali hanno rifilato un bel 3-2 al Termoli 2016 ed il Trivento ha vinto in casa contro il Baranello. Inoltre, Ripalimosani e Trivento sono rispettivamente a 40 e 38 punti, quindi a soli due punti di distanza l'una dall'altra, aspetto che preannuncia una partita equilibrata ma avvincente. Infatti, nonostante la salvezza già conquistata nella categoria, i due team non faranno sconti e scenderanno in campo con l'unico obiettivo di portare a casa i tre punti. La direzione è affidata a Francesco Scarati della sezione di Termoli. Le quattro formazioni protagoniste di questi due anticipi scenderanno in campo alle ore 15.